Presidente, commissari, colleghi, di fronte ai problemi insorti dopo l'invasione dell'Ucraina, il nostro disappunto è rivolto verso la Commissione perché non ha preventivamente effettuato uno studio sull'impatto sociale ed economico che si sarebbe generato a causa dell'ulteriore impulso impresso all'aumento dei prezzi e alla struttura dei costi delle imprese. Ritengo che la Commissione debba meditare la soluzione indicata da Keynes nel suo How to Pay for the War del 1939. A otto mesi dall'inizio della guerra siamo ancora senza soluzioni condivise tra Paesi membri e i cittadini europei sono nel dilemma se pagare le bollette o fare la spesa per mangiare, mentre le imprese se pagare i maggiori costi dell'energia innalzando i prezzi o cessare la produzione licenziando i propri dipendenti. La situazione finanziaria appare precaria a livelli pubblici e privati, non avendo predisposto strumenti per affrontare sin dai primi sintomi una possibile crisi sistemica. Questa condizione non può legittimare l'iniziativa indipendente dei singoli Paesi membri che creano gravi asimmetrie all'interno del mercato unico. Se la Commissione permette che gli Stati intervengano direttamente con proprie risorse e senza offrire proprie alternative, si stabilirà una concorrenza illecita nel mercato comune europeo in palese violazione agli articoli 107 e 108 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea. Il caso più evidente è il piano di aiuti per 200 miliardi di euro parato da Germania, a supporto al proprio sistema produttivo. Le conseguenze differite di questa politica opererebbe contro il consenso delle popolazioni verso le istituzioni, causando disturbi per la stabilità degli accordi europei proprio nel momento in cui si esamina finalmente la loro validità in un mondo in rapida evoluzione. Grazie.